Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dall'A1 dove si registrano code in uscita a Firenze Sud a causa del traffico intenso provenendo da Bologna. In Fipili code a tratti sempre a causa del traffico intenso tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Uno sguardo al maltempo sta nevicando infatti in A1 tra Firenze Sud e Valdarno, Nevischio invece tra Sasso Marconi e Calenzano Sesto Fiorentino e tra Valdarno e Fabro. Neve e ghiaccio stanno provocando disagi su tutta la provincia di Siena, infatti è stata chiusa la statale Siena-Grosseto. Firenze dal 26 gennaio per 15 giorni è in corso il preesercizio della linea 2 della tramvia. I trem viaggiano senza fasteggeri simulando il futuro servizio tra unità e per eto all'aeroporto. Moversi in Toscana Info è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!